Alberto Mariani dell'Atletic, vuole fornirci un commento alla partita? Sono contentissimo perché abbiamo battuto la squadra che gioca meglio nel girone, 0-0, meritando, facendendo di poco. Credo che sono tre punti importanti nella nostra corsa a un campionato di Belfast. Dobbiamo pensare al recupero di giovedì, ma godiamoci questa vittoria meritata ed importante. È contento della sua squadra? Assolutamente, perché come avevo detto in tre partite, Mario Alpieschi è una delle squadre più accreditate, più organizzate, più tecniche, quindi è un risultato importantissimo. Che cosa si aspetta dalle partite future? Mi aspetto concretezza. Se riusciamo a portare sul campo concretezza con gli uomini nella rosa che ho a disposizione, possiamo divertirci da quella fine.